Buongiorno, buongiorno da Onda Digin, un'apertura alla politica con le caselle vuote ancora da riempire i possibili assessori a Palazzo San Francesco per la nuova giunta, però c'è da aspettare, facciamo il punto nel nostro servizio. Era attesa per la giornata di oggi ma non tutte le caselle sono state riempite, slitta la nomina dei nuovi assessori a Palazzo San Francesco. Per varare la giunta comunale del neoprimo cittadino Gianfranco Di Piero ci vorrà ancora qualche giorno. Qualche rallentamento c'è stato per via dell'emergenza pandemica che ha costretto lo stesso sindaco a stare in isolamento dopo la positività di un suo congiunto. Di Piero resterà in quarantena almeno fino a sabato per cui è facile che il nuovo esecutivo sarà presentato dopo il ponte di Ogni Santi. Quello che è certo è che si sta comunque lavorando per disegnare il nuovo volto della città. Dopo il primo giro di consultazioni a Palazzo sul tavolo del sindaco, meglio sulla piattaforma, sono arrivate le prime designazioni delle varie liste della coalizione liberamente sul Mona che hanno contribuito a successo elettorale. Un ventaglio di proposte entro le quali il primo cittadino farà una sintesi per nominare cinque assessori, tra cui un vice sindaco. Il Movimento 5 Stelle ha le idee più chiare, punta tutto sul pentastellato Attilio D'Andrea, eletto in consiglio comunale. Questo vorrebbe dire a divenire alla surroga tra gli scrani di Palazzo con il primo dei non eletti Jacopo Lupi. Su Mona Libera e Forte avrebbe dato alcune indicazioni, tra cui Elio Accardo e Livio Fallavollita. Ha fornito la sua rosa di nomi anche Sbic, più quotati sarebbero Katia D'Inisio, Matteo Puglielli e Sergio Berardi. Prende tempo il PD che presenterà verosimilmente la sua rosa di nomi nelle prossime ore. Intesa sul Mona punta su Domenico Capaldo, ma si attende la disegnizione ufficiale. Per tutte le forze in campo è arrivata la sollecitazione dello stesso Di Piero, poiché il tempo stringe. Per domani, 28 ottobre, si dovrà procedere alla convocazione del Consiglio Comunale di Insediamento, che sarà celebrato tra il 2 e l'8 novembre. Termine un ultimo per insediarsi. In quell'occasione dovrà essere presentato il nuovo esecutivo, come pure si procederà all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Sul punto lo scenario non appare ancora chiaro, anche se le voci di corridoio assegnano lo scranno più alto, proprio a Teresa Nannarone. Insomma, le prossime ore saranno decisive per riempire anche le caselle vuote, ingranare la marcia per dare il via a una nuova era amministrativa. E a carcere di Sulmona, i colloqui con i detenuti, ammessi anche cani e gatti, non è per sentirlo dire, ma è proprio così. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Sembrerebbe che a supercarcere di Sulmona, dopo una richiesta avanzata da un detenuto, sia stata avallata dalla locale direzione la volontà espressa dallo stesso di voler effettuare, oltre che colloqui visivi con i familiari, anche un incontro con il proprio cane. Non si hanno notizie di pari accorgimenti adottati in altri istituti di pena italiani, per cui, se ciò fosse rispondente al vero, quello che potrebbe accadere a carcere di piazzale, vittime del dovere, a davvero dell'originale. Cani e gatti potrebbero a breve quindi entrare in carcere, seppur per un'ora al mese, e far compagnia a quel detenuto che, a causa della pena inflitta, che sta scontando, l'ha dovuto lasciare all'esterno delle alte mura. Sul caso interviene Mauro Nardella della Wilp al telefono. Se e qualora verrà, dal punto di vista etico, accetto favorevolmente questa decisione presa dalla direzione del carcere di Sulmona. Tuttavia resto perpresso su quello che andrà a riguardare l'aspetto logistico. Non so se ci sono le condizioni minime e indispensabili per garantire il tutto, dal punto di vista sia della sicurezza che della salubrità. Ovviamente il mio pensiero va anche a tutti coloro i quali operano nel settore dei collochi e che nella pandemia è stata una delle realtà che più di tutte ha visto impegnati i propri collaboratori, i propri addetti, nel soddisfacimento delle varie esigenze lavorative. Quindi è tutto da capire se la decisione intrapresa possa essere sposata per il futuro e resa ordinaria nella straordinarietà della decisione presa. Ovviamente non ho nulla da eccepire. Sono il fatto che comunque l'animale, al pari dell'uomo, non può e non deve essere messo in secondo piano. E ora la sanità, la pediatra non si tocca, scatta la raccolta firme al distretto. Un caso che continua a tenere banco, il Tribunale per i diritti del malato incontra le famiglie. Sentiamo che cosa sta succedendo nel nostro servizio. Una raccolta firme per mantenere in servizio a Sulmona la pediatra Masciarelli. L'iniziativa sarà avviata nelle prossime ore dalla coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato, Katia Puglielli, che domani alle 17 incontrerà le famiglie assistite dalla dottoressa al distretto sanitario per concordare ulteriori ed eventuali azioni da porre in essere. Il rapporto tra medico e paziente, ancora di più se si tratta di un paziente minore, è un rapporto fiduciario. Partendo da questo prosupposto, è necessario che l'Astle con le proprie scelte di politica aziendale dia stabilità ai rapporti di lavoro affinché si traducano in continuità e qualità dell'assistenza sanitaria, osserva Puglielli, ricordando che la dottoressa Masciarelli ad oggi assiste molti pazienti di Sulmona e del circondario ed è subentrata in una situazione in cui i genitori, senza alcuna forma di preavviso, erano rimasti senza pediatra, con una scelta imposta dall'azienda sanitaria. La dottoressa Masciarelli ha dovuto lavorare mesi per conoscere tutti i suoi pazienti e il loro quadro clinico per garantire conseguentemente un'adeguata assistenza. Chiedo dunque alle istituzioni politiche di intervenire affinché si crei per Sulmona uno spazio di lavoro dove è possibile discutere dalle problematiche e trovare una soluzione, conclude il TDM che già aveva chiamato in causa l'ASL senza ricevere risposta alcuna. L'azienda ha intanto spiegato a un dati di Cichela Masciarelli sarà reclutata per le sostituzioni poiché la stessa non avrebbe risposto all'avviso bandito, ma TDM e famiglia vogliono vederci chiaro da qui l'incontro programmato per domani. Sotto inchiesta per concussione, come si sa, via al doppio procedimento disciplinare per il medico sulmonese finito nel mirino dei carabinieri del NAS nei giorni scorsi. Sentiamo nel nostro servizio. Al via procedimenti disciplinari per il medico sulmonese coinvolto nell'inchiesta per concussione coordinata dalla Procura della Repubblica di Sulmona e dei carabinieri del NAS di Pescara. A carico del 52enne, arrestato nei giorni scorsi, si apriranno due filoni disciplinari, quello che fa capo all'ordine dei medici e quello dell'ASL, come conferma la stessa azienda sanitaria, spiegando che si tratta sostanzialmente di un atto dovuto. Il medico è stato scarcerato e posto ai domiciliari lo scorso lunedì, al termine di un lungo interrogatorio, nel corso del quale ha spiegato al giudice di aver effettuato una semplice prestazione professionale, al costo di 230 euro con tanto ripartita IVA, somministrando una cura adiovante dietro specifica richiesta di una paziente oncologica. Per il medico e suo legale Massimo Zambelli, nessuna costrizione né concussione, dal momento che in quell'occasione il 51enne non agiva nemmeno in veste di pubblico ufficiale. Diversa la tesi dell'accusa, secondo la quale il medico avrebbe somministrato una cura a pagamento, senza alcun piano terapeutico, a una paziente che sta affrontando cure salvavita, utilizzando addirittura un dispositivo medico risultato scaduto di validità. Le indagini faranno luce sul caso, tenendo conto che si stanno svolgendo accertamenti in ordine farmaci ed eventuali ulteriori episodi. Ed ora la cronaca tenta di salire sul treno in corsa, donna sul Monese trasportata in ospedale con il piede tranciato, un episodio che si è verificato nella giornata di ieri nella stazione di Pescara. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Aveva preso per un soffio il mezzo per ritornare a Sulmona, ma è scivolata, finendo con una parte dell'arto sotto la ruota. L'incredibile episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, nella stazione di Pescara Porta Nuova, ai danni di una 53enne di Sulmona, che ora è ricoverata nell'ospedale Santo Spirito di Pescara, per il trauma da schiacciamento riportato. I medici la stanno tenendo sotto osservazione per monitorare il suo quadro clinico. Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polfer, la donna avrebbe cercato di prendere il treno al volo, diretto a Sulmona, nel vero senso della parola, perché il convoglio era ormai in movimento, quando la gamba sarebbe finita tra il mezzo e il marciapiede, e il piede sinistro sotto una delle ruote. Una scena terribile per chi era presente, che è stato ascoltato ovviamente dalla polizia per gli accertamenti del caso. La donna non avrebbe perso conoscenza, ma dopo essere stata stabilizzata e sarà trasportata nell'ospedale del capologo Adriatico, in codice rosso, i sanitari starebbero valutando l'amputazione del piede dopo il grave incidente. Quanti hanno assistito al fatto ritengono tuttavia che per la donna si trattano di un miracolo, vista la dinamica dell'episodio. E la cronaca giudiziaria ci riporta a Sulmona nessun colpevole per la rapina, con manarmata nella parafarmacia di Viale Mazzini. Sono stati assolti i due imputati, un episodio che risale al 2019. Sentiamo nel nostro servizio. Erano finiti sotto processo per furto aggravato in concorso, rapina aggravata dell'uso dell'arma, ma Giuseppe Serve e Maurizio Ventresca sono usciti entrambi assolti, questa mattina dal collegio giudicante del Tribunale di Sulmona, preeseruto dal giudice Pierfilippo Mazzagreco. I due sulmonesi erano ritenuti responsabili della rapina perpetrata ai danni della parafarmacia di Viale Mazzini. I fatti risalgono al 9 febbraio del 2018, quando la titolare della parafarmacia che si trova nell'edificio dove ha sede il supermercato Conad di Viale Mazzini aveva appena chiuso il negozio e si apprestava a salire sulla sua auto. In una mano la donna stringeva l'incasso della giornata, mentre nell'altra la borsa con il computer e i documenti. La malcapitata si è ritrovata davanti un uomo con un coltello tra le mani. Temendo che potesse accadere qualcosa di grave, la prima cosa che le è venuta in mente sarà quella di offrire a malvivente soldi dell'incasso, nella speranza di vederlo a più presto andare via, anche perché in quel momento era più importante per la donna riuscire a non mollare la borsa e il suo contenuto, documenti, computer, carte di credito, anziché 1.400 euro dell'incasso. Ma il rapinatore, dopo essersi preso la borsa, è scappato via con il suo complice, che lo stava aspettando poco più distante, a bordo di un furgone bianco rubato poco prima sulla circonvalazione orientale. I due sono quindi finiti davanti al giudice in base alle indagini svolte dalla polizia. Nel corso del processo la deposizione della vittima si è rivelata a tratti confusa, anche se la malcapitata ha riconosciuto uno dei due imputati. Il quadro probatorio, secondo i giudici, non è stato solido a tal punto da condannare i presunti autori del fatto. Dal video proiettato in aula non si evince la presenza del furgone utilizzato per la rapina e la fuga, né sono state rilevate impronte dagli accertamenti successivi. Come pure elementi discordanti sono emersi sulla rilevazione delle celle telefoniche, e la ricostruzione degli orari. Per questo, recependo la linea degli avvocati difensori Silvia Iafolle e Andrea Marino, il collegio assolto serve ventresca per non aver commesso il fatto, nonché per l'insufficienza delle prove acquisite. Il PM aveva chiesto sei anni, mentre i legali hanno fatto cadere il castello accusatorio rispetto agli indizi e alle intuizioni raccolte. Nessun colpevole. Un nuovo ricovero, una possibile nuova infezione e altri dieci contagi, e questo è il bilancio del coronavirus per la giornata di oggi in centro Abruzzo, con il contagio che non si ferma e tutti i fronti che si sono aperti si stanno allargando. Dieci nuovi casi di Covid-19 emessi a referto dalla Astle, di cui sei a Sulmona, due a Introdacqua, uno a Capodigiove e uno a Raiano. Nell'elenco dei positivi è finito un operatore sociosanitario della clinica San Raffaele di Sulmona, uno studente di 15 anni e poi l'anziana di 85 anni, non vaccinata per sua scelta, nonostante la venerante età. La donna è stata trasportata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Avezzano dopo la diagnosi effettuata nell'area grigia dell'ospedale di Sulmona, per cui salgono a quattro di nuovo i posti letto occupati per i pazienti dell'area pelinio-sangrina. Un dato, quello dei ricoveri, contenuto, che insomma conferma la risposta anche della campagna vaccinale in atto, però è da tenere sotto controllo proprio per i parametri che poi determinano la classificazione delle regioni. Il caso di una possibile nuova infezione riguarda una giovane residente in Valle Pelinia che dopo un anno è risultata positiva al tampone, però sono in corso ulteriori verifiche perché è del tutto asintomatica ed è coperta dalle due dosi di vaccino dopo essere entrata in contatto con un congiunto che è risultato affetto dal coronavirus. Ricordiamo nel fine settimana la campagna di screening passivo a Sulmona, venerdì sabato e domenica, un modo per isolare i positivi asintomatici, soprattutto assestare e stabilizzare il quadro epidemiologico, ma la campagna ha una sola finalità di screening, per cui non è previsto il rilascio del Green Pass, ma serve proprio ad arginare, a bloccare questo contagio random che soprattutto nella città di Sulmona non è collegato con i vari fronti, con i vari focolai che si sono accesi. Avremo modo nelle prossime ore di acquisire ulteriori elementi, di fare il punto della situazione. Prima di chiudere vi ricordo i film in programmazione alla multisala Idgoland di Corfinio, Corfinio, Venom, La furia di Carnage, 18 e 10 e 21 e 10, Halloween Kills, 18 e 10 e 21 e 10, Ron, Un amico fuori programma, ore 18, e poi Alcina Pacifico, Area ferma, con due proiezioni, 18 e 10 e 21 e 10. Prima di chiudere vi ricordo, anzi, vi invito a visitare il nostro sito internet, www.ondariv.it, per essere aggiornati su tutte le notizie, è davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Ondarigie, che come di consulio torna questa sera alle ore 20 circa, a tutti buon pomeriggio.